Salve, sono Matteo Fin di Adio Group, Product Manager di Control4 e responsabile del settore Custom Installation di Adio Group. Siamo qui ospiti allo stand del Cydia, in quanto membri di Cydia, ormai da diverso tempo. Abbiamo organizzato insieme a loro, una cosa che abbiamo voluto fortemente, un workshop dedicato a progettisti e interior designer per sabato 5, dove daremo una panoramica delle nuove tecnologie impiegabili nell'ambiente residenziale, dalla domotica insieme a Lutron, anche loro partner Cydia, con Control4 per tutto quello che riguarda la supervisione e il controllo della parte multimediale e infine Sasha De Franceschi con titolari di Adio Group, con il nuovo prodotto di Adio Group che è Luxury Cinema, che lanceremo tra breve, dedicato all'OMCinema di fascia alta. Vi ringrazio e a presto!